salve intitolerò questo video e se cercherò di essere molto breve è un momento in cui si parla di copyright le decisioni insomma anche del consiglio europeo comunque gli indirizzi anche se manca poi ancora una normativa precisa io prevedo che sarà un gran casino comunque spero di spero di sbagliarmi mi sembra così difficile poter regolamentare bene in maniera un mercato come quello della rete senza provocare non importa non è non è questo che volevo commentare vedremo cosa succederà naturalmente io sarei per una rete libera e come anche ho cercato di dimostrare nel senso che quello che ho cercato di fare fino adesso ho messo a disposizione gratuitamente perché credo che questo deve fare la cultura insomma no e tutto sommato anche come dire sempre accettato che i miei video fossero anche scaricati e ricaricati insomma nel senso che penso che il fatto che che una che una cosa che si fa anche se costa sacrificio farlo insomma ma arrivi il più lontano possibile anche con con tutti i mezzi insomma sia sia un bene poi non lo so ovvio insomma io non vivo di questo quindi posso permettermi di farlo forse altri no però mi pare anche così una cosa non del tutto sostenibile che perché si è prodotto qualcosa si possa continuare a a camparsi molto bene sopra e a lucrarsi e altri ci possono nucleare per anni e anni ancora 70 anni dopo la morte di chi ha prodotto questo qualcosa ma questo è ancora un altro tema di cui non volevo parlare in questo video il tema invece di questo video era il lucro che ci fanno invece le le grandi organizzazioni è possibile bypassare questa cosa nel caso particolare le piattaforme di vendita ormai dei prodotti e come ci inseriscono i vari mediatori ormai a livello non soltanto librario magari editori ma anche campo multimediale se è possibile bypassarlo in qualche modo senza cadere nel ricatto che propongono queste figure editoriali in cui ti presentano già dei modelli già fatti insomma cioè o ci stai in questa cosa o non ci stai e se ci stai quello che arriva poi a chi ha prodotto l'opera creativo è ben piccolo percentuale no percentuale quasi trascurabile a volte insomma chi scrive un libro insomma vado sul libro a questo punto insomma si vede rientrare una quota ben piccola del ricavo di che che farà se farà insomma insomma no l'opera che ha scritto è possibile bypassare allora l'idea mi è venuto andando a vedere il you can print che è un sito che poi produce insomma audiolibri o anche che mette non soltanto audiolibri ma anche ebook che poi li distribuisce nelle varie non so se si chiami sito cosa sia dal punto di vista formale ma non mi interessa insomma è un'entità che produce audiolibri e che poi va a postare nelle varie piattaforme e credo sia collegato soprattutto con ibo va a postare questi libri che poi verranno messi in vendita no e ho visto che insomma per esempio farsi leggere un audiolibro in questa piattaforma da un lettore che poi non si conosce insomma non per poi sapere se questo lettore ti piace o no devi pagare tra l'altro 30 euro per avere la prima pagina letta in modo tale da poter dire sì mi piaccia o non mi piace la tua scelta tra l'altro non ci sono neanche i nomi dei lettori insomma ci sono soltanto le opzioni di scegliere un lettore maschio un lettore femmine quindi tu vai lì e paghi poi 2,99 euro più IVA per ogni cartella editoriale che ti verrà letta e poi ci saranno tutte le condizioni per entrare nella piattaforma di vendita e questo mi pare sia il sito poi anche forse più economico in un certo senso perlomeno quello più più diffuso è quello che compare per primo quando si va a vedere in rete ma qualcuno stima che farsi fare un audiolibro costi qualcosa come 4.000 euro leggo poi sempre nella piattaforma di YouCanPrint questa bella definizione insomma trasformare il proprio libro in audiolibro è una scelta importante e soprattutto un investimento su uno dei mercati più in crescita e che rappresenta il futuro dell'editoria allora mettiamo che sia così è possibile perché scrive un libro e in questo caso per chi lo legge dai mi ci metto anch'io ma ci metto anche tutti i possibili lettori che ci sono ormai insomma che sono diventati una presenza insomma anche in rete e che siamo costretti anche a leggere poi cose molto adattate quindi siamo lontani dal presente dal tempo che ci sfugge siamo nel passato e la nostra cultura o insegue i modelli del passato ma non è in grado poi di stare dietro a quello che succede nel presente nell'immediato se non stando al ricatto che ci fanno i grossi imprenditori nel campo allora è possibile bypassare questa cosa insomma rendere la cultura anche un qualcosa di popolare di immediato di diretto è chiaro però che ci sono come dire che c'è qualcosa che rientra anche anche qui nel mercato mi spiego mettiamo un giovane autore che scrive un libro e che ancora non ha preso contatti con l'editore quindi scrive un'opera creativa insomma e che la vuole far conoscere diciamo che la vorrebbe anche mettere in vendita perché se passa con l'editore è chiaro che l'editore cercherà di vendere questa opera avrà un prezzo avrà un prezzo di vendita vogliamo saltare l'editoria e vogliamo utilizzare la forma dell'audiolibro che come scrive you can print è un investimento mercato in crescita che rappresenta il futuro dell'editoria ecco ci siamo noi che lezziamo facciamo questa questa attività di narratori siamo bravi non siamo bravi ma magari siamo più di uno insomma no e abbiamo la possibilità senza leggere i diritti di nessuno perché c'è lo scrittore che ha la sua opera inedita quindi dispone lui completamente di quest'opera e ci siamo noi che possiamo leggerla e possiamo leggerla anche gratuitamente quindi senza rappresentare un costo di partenza come quello che rappresenta invece farsi leggere il libro da you can print a questo punto ci sono le due figure chi ha scritto chi ha letto l'audiolibro poi tra l'altro chi ha scritto il libro ha anche il file del libro quindi ha anche eventualmente l'ebook insomma quello che potrebbe essere il contenuto di un ebook basta trasformare il file basta trasformare il pdf in un file di testo e oppure in un file mobi o e pub ed è fatto insomma più o meno insomma adesso magari ci sarà qualche colma sono quisquiglie tecniche a questo punto c'è l'audiolibro l'ebook ti sarebbero e sai chi ha scritto il libro e chi legge l'audiolibro cosa manca? manca dove proporlo questo libro quindi si potrebbe essere alla piattaforma youtube da questo punto di vista non avrebbe come dire non si violerebbe nessun diritto nessun copyright perché le due cose sono inedite la sostanza insomma l'opera è creativa sia da parte di chi la scrive sia da parte di chi la legge e quindi il problema è come raggiungere eventualmente chi potrebbe essere interessato insomma a questa all'opera al libro insomma all'audiolibro che ha in sé anche il libro e quindi eventualmente l'ebook e quindi da questo punto di vista l'audiolibro potrebbe essere postato senza violare nessun diritto editoriale direttamente su youtube si tratta il fatto è che youtube non è una piattaforma dove vendere la cosa però secondo me la cosa potrebbe essere come dire resa possibile se questo libro fosse proposto gratuitamente salvo come dire lasciare volontariamente chi lo diciamo chi lo consuma chi lo legge chi lo ascolta libero di fare una piccola donazione vi dico una donazione che potrebbe essere di due euro per per la lezione per la lettura di quel libro insomma e eventualmente il ricavato di questa di questa donazione insomma quanto viene il ricavato di questa donazione appunto potrebbe essere suddiviso in parti uguali tra chi ha scritto il libro e chi l'ha letto dopodiché se uno volesse fare una donazione che so io invece di due euro di tre o di quattro potrebbe anche ricevere l'ebook insomma il file del libro col quale seguire come sembra la cosa più auspicabile insomma non seguire eventualmente la lettura con il testo scritto a fronte allora il titolo di questo video sarà e se nel senso è un'idea molto bazzana potrebbe essere realizzabile potrebbe essere diciamo molto dovrebbe essere affidato da questo punto di vista soprattutto se chi ha scritto il libro volesse realizzare qualcosa dalla fatica dai soldi che ha speso per farlo dal tempo da tutto quello che si vuole dovrebbe essere legato oppure condizionato alla responsabilità di chi leggerà quel libro di chi ascolterà quel libro di fare una piccola donazione insomma cioè di sapere che dietro questa cosa qua ci sarebbe un costo diciamo così però molto libero chi lo vuole ma sarebbe un costo che andrebbe in qualche modo pagato chiamiamo così un costo che equivale a che non paga certo diciamo l'opera in termini di prezzo insomma non si arriva ai 15 20 euro che costa un libro o un libro più un audiolibro insomma sarebbe un diciamo una cifra però libera nel senso che uno può pagare o non pagare insomma non è un prezzo perché non siamo su una cosa economica insomma sarebbe un piccolo rimborso spese ecco la cosa è di capire ci potrebbero essere degli scrittori che hanno interesse a una cosa del genere ci sono dei lettori che potrebbero avere interesse a fare questa cosa il tutto è finalizzato poi a superare certi vincoli certi ostacoli e soprattutto certi intermediari che poi si mangiano la grande fetta e che poi condizionano il mercato allora è chiaro che il lettore dovrebbe sentire il libro qualche modo quindi dovrebbe fare una scelta su quello che gli viene proposto insomma dovrebbe essere libero di scegliere di leggere il libro che che sente più adatto a sé insomma al suo sentire alla sua voce al suo modo di comunicare lo scrittore potrebbe avere dei vantaggi sicuramente insomma avere il libro che gira per la rete se poi è in grado di passarlo agli amici insomma insomma anche se non economichi ci sicuramente di immagine insomma potrebbe essere un modo di farsi conoscere poi è chiaro che da questo punto di vista chi ha scritto il libro rimane comunque il proprietario di del suo libro e quindi sarà libero di stamparselo di farselo editare se vede che poi questo libro funziona piazza una volta che messo in rete insomma sarà libero di gestire il suo libro come vuole una volta che lo stampa su carta forse io non non considero molti fattori non sono pratico di vendita mai riuscito a vendere niente in vita mia insomma però come dire lo propongo a voi così come come così come idea da sviluppare insomma e infatti in tutta l'ora questo video e se ditemi cosa ne pensate e soprattutto se è una cosa concreta o se è semplicemente un'idea balzana una buona giornata